Il meccanismo associativo. Per cominciare la tua esplorazione del singolare funzionamento del sistema 1, guarda le seguenti parole. Banane. Vomito. Ecco che nel giro di 1 o 2 secondi ti capitano un sacco di cose. Ti balenano in testa alcuni ricordi e immagini sgradevoli. Il viso ti si contrae in una leggera smorfi di disgusto e spingi questo libro un po' più in là. La frequenza cardiaca aumenta, i peli delle braccia si drizzano leggermente, le ghiandole sudoripari si attivano. In breve reagisci alla parola disgustosa con una versione attenuata di come reagiresti alla cosa reale. La reazione è del tutto automatica, di là dal tuo controllo. Non c'era un particolare motivo di reagire così, ma la tua mente ha automaticamente assunto che vi fossero una sequenza temporale e una connessione causale tra i termini banane e vomito. E ha elaborato un abbozzo di scenario in cui le banane causavano il vomito. Di conseguenza, stai sperimentando una temporanea avversione per le banane, non temere, passerà. Lo stato della tua memoria è cambiato anche sotto altri profili. Ora sei insolitamente pronto a riconoscere e a ragire oggetti e concetti associati al vomito, come nausea, puzzo, conato e termini associati a banane, come giallo, frutto e forse mela e frutti di bosco. Di solito si vomita in contesti specifici, come quando si è fatta indigestione o si è presa una sbornia. Saresti anche più pronto del solito a riconoscere parole associate con altre cause dello stesso sfortunato risultato. Inoltre, il tuo sistema 1 ha notato che la giusta posizione di quei due termini non è comune. Probabilmente non l'avevi mai incontrata prima e hai provato una leggera sorpresa. La complessa costellazione di reazioni è avvenuta in maniera rapida, automatica e spontanea. Non l'hai voluta e non hai potuto impedirla. È stata un'operazione del sistema 1. Gli eventi che hanno avuto luogo in conseguenza della visione di quelle due parole sono avvenuti per un processo chiamato attivazione associativa. Le idee che sono state evocate innescono molte altre idee in una cascata sempre più grande di attività cerebrale. La caratteristica fondamentale di questa complessa serie di eventi mentali è la coerenza. Ogni elemento è connesso all'altro e ciascuno sostiene e rafforza gli altri. La parola evoca ricordi che evocano emozioni, che a loro volta evocano espressioni del volto e altre reazioni, come la tensione generale e la tendenza a prendere le distanze. L'espressione del volto e la presa di distanza intensificano le sensazioni cui sono associate e le sensazioni a loro volta rafforzano le idee compatibili. Tutto questo accade in fretta e simultaneamente, producendo un modello autorafforzantesi di risposte cognitive, emozionali e fisiche, insieme varie e integrate, che è stato definito associativamente coerente. In uno o due secondi hai compiuto in maniera automatica e inconscia una notevole impresa. Davanti a un evento del tutto inaspettato, il tuo sistema 1 ha cercato di capire il più possibile la situazione. Due parole comuni, stranamente giustapposte. Collegando i termini, una storia causale ha valutato la possibile minaccia da lieve a moderata. Ha creato un contesto per gli sviluppi futuri, preparandoti a eventi che si sono appena rivelati più probabili, e ha creato il contesto anche per l'evento attuale, valutandolo in base alla sua capacità di sorprendere. Risultato? Ti sei ritrovato il più informato possibile sul passato e il più preparato possibile al futuro. Una singolare caratteristica di quanto è successo è che il sistema 1 ha trattato il mero accostamento di due parole come una rappresentazione della realtà. Il tuo corpo ha reagito con una versione attenuata della reazione che avrebbe avuto al fenomeno reale, e la risposta emozionale e il disgusto fisico facevano parte dell'interpretazione dell'evento. Come hanno sottolineato negli ultimi anni gli psicologi cognitivi, la cognizione è incarnata. Si pensa con il corpo, non solo con il cervello. Il meccanismo che provoca questi eventi mentali è noto da un pezzo, ed è l'associazione di idee. Tutti capiamo, in base all'esperienza, che le idee si succedono in maniera abbastanza ordinata, l'una all'altra, nella mente conscia. I filosofi britannici del XVII e XVIII secolo cercarono le regole che spiegassero simili sequenze. Nel Saggio sull'intelletto umano, pubblicato nel 1748, il filosofo scozzese David Hume riduceva a tre i principi di associazione. Somiglianza, contiguità nel tempo e dello spazio, e causalità. Il nostro concetto di associazione è cambiato radicalmente dall'epoca di Hume, ma i suoi tre principi rappresentano ancora un buon punto di partenza. Adotterò una visione ampia di che cosa sia un'idea. Può essere concreta o astratta, ed essere espressa in molti modi, come un verbo, un sostantivo, un aggettivo o un pugno chiuso. Gli psicologi considerano le idee nodi di una vasta rete, chiamata memoria associativa, nella quale ogni idea è collegata a molte altre. Vi sono diversi tipi di connessioni. Le cause sono collegate ai loro effetti, virus, raffreddore, le cose alle loro proprietà, lime, verde, e alle categorie di appartenenza, banana, frutto. Uno dei progressi che abbiamo compiuto rispetto a Hume è di non pensare più che la mente passi attraverso una sequenza ordinata di idee consce. Secondo la visione corrente del funzionamento della memoria associativa, molte cose accadono contemporaneamente. Un'idea che è stata attivata non si limita a evocarne un'altra, ma ne attiva molte, che a loro volta ne attivano altre. Inoltre, solo alcune di quelle attivate vengono registrate dalla coscienza. La maggior parte del lavoro del pensiero associativo è silenziosa. Celata al nostro sé conscio. L'idea secondo cui abbiamo un accesso limitato al funzionamento della nostra mente è difficile da accettare, perché è ovviamente estranea la nostra esperienza, ma è vera. Sappiamo di noi stessi molto meno di quanto pensiamo. I miracoli del priming. Come accade di frequente in campo scientifico, il primo grande progresso nella comprensione del meccanismo di associazione è stato il perfezionamento di un metodo di misurazione. Fino a pochi decenni fa, l'unico modo di studiare le associazioni era di fare a molte persone domande come qual è la prima cosa che le viene in mente quando sente la parola giorno? I ricercatori registravano la frequenza delle risposte come notte, soleggiato o lungo. Negli anni Ottanta, Gli psicologi scoprirono che essere esposti a una parola determina cambiamenti immediati e misurabili nella facilità con cui sono evocate molte parole correlate. Se abbiamo visto o sentito da poco il termine it, mangiare, è più probabile che per un certo tempo completeremo il frammento di parola l'opposto accadrebbe naturalmente se avessimo appena visto wash lavare. Lo definiamo effetto priming e diciamo che l'idea di it sensibilizza primes all'idea di soup mentre wash all'idea di soap. Gli effetti priming assumono molte forme se, che ne siano consci o no, al momento abbiamo in mente l'idea di it, di mangiare, riconosceremo più in fretta del solito la parola soup, zuppa, quando è appena bisbigliata o presentata con caratteri poco chiari e naturalmente siamo sensibilizzati non solo all'idea di zuppa ma anche a una quantità di idee connesse al cibo come forchetta, fame, grasso, dieta e biscotto. Se durante l'ultimo pasto che abbiamo consumato eravamo seduti a un traballante tavolo di ristorante saremo anche sensibilizzati al traballante. Inoltre, le idee sensibilizzate tendono a sensibilizzarne altre benché in maniera più debole. Come increspature in uno stagno l'attivazione si diffonde in una piccola parte della vasta rete delle idee associate. La mappatura di queste increspature è oggi uno dei più affascinanti obiettivi delle ricerche di psicologia cognitiva. Un altro grande progresso nella comprensione della memoria si registrò quando si scoprì che il priming non è limitato ai concetti e alle parole. Non lo sappiamo dall'esperienza conscia, naturalmente, ma dobbiamo accettare l'idea straniante che le nostre azioni ed emozioni siano innescate da eventi di cui non siamo neppure consapevoli. Nel corso di un esperimento che diventò subito un classico, lo psicologo John Barg e i suoi collaboratori dissero ai volontari dell'Università di New York per lo più studenti di età compresa tra i 18 e i 22 anni di mettere insieme frasi di quattro parole a partire da una serie di cinque, per esempio Trova egli lo giallo subito. Metà delle frasi sconclusionate proposte a uno dei gruppi conteneva parole associate con gli anziani come Florida in Florida si trasferiscono molti pensionati degli stati più settentrionali smemorato, calvo, grigio o ruga. Quando ebbero portato a termine il compito, i giovani volontari furono mandati in un ufficio in fondo al corridoio per sottoporsi a un altro esperimento. Il nuovo esperimento consisteva in realtà nel fare proprio quel breve tragitto. I ricercatori, senza farsi vedere, calcolarono il tempo che i ragazzi impiegavano ad andare da un campo all'altro del corridoio. Come previsto, quelli che avevano composto le frasi con parole da vecchi percorsero il corridoio molto più lentamente degli altri. L'effetto Florida comporta due stadi di priming. Innanzitutto, la serie di parole innesca pensieri legati alla vecchiaia, benché la parola vecchio non compaia mai. Poi quei pensieri innescano il comportamento di camminare lentamente che è associato con l'età avanzata. Tutto questo accade senza che il soggetto se ne renda minimamente conto. Quando, in seguito, gli studenti furono interrogati, nessuno disse di aver notato che le parole avevano un tema comune e tutti protestarono che niente di quanto avevano fatto dopo il primo esperimento avrebbe mai potuto essere influenzato dalle parole in cui si erano imbattuti. L'idea della vecchiaia non era giunta alla loro consapevolezza, ma le loro azioni ne erano comunque state influenzate. Questo straordinario fenomeno di priming, l'azione che è influenzata dall'idea, è definito effetto ideomotorio. Anche se non te ne sei reso assolutamente conto, leggere questo paragrafo ha sensibilizzato anche te. Se ti fosse venuta voglia di andare a prendere un bicchiere d'acqua in cucina, avresti impiegato un po' più di tempo del solito per alzarti dalla poltrona, a meno che tu non sia una di quelle persone che detestano gli anziani. Nel qual caso, dicono le ricerche, ti saresti forse mosso un po' più rapidamente del solito. Il nesso ideomotorio funziona anche al contrario. Uno studio condotto in un'università tedesca ha rovesciato l'esperimento iniziale che Barg e i suoi colleghi avevano effettuato a New York. Ai soggetti fu detto di camminare su e giù per la stanza per 5 minuti al ritmo di 30 passi al minuto, circa un terzo del ritmo normale. Dopo quella breve esperienza, gli studenti impiegarono molto meno tempo a riconoscere parole correlate alla vecchiaia come smemorato, vecchio e solo. Gli effetti priming reciproci tendono a produrre una reazione coerente. Se si è sensibilizzati a pensare alla vecchiaia, si tende ad agire come vecchi, così come comportarsi da vecchi rafforza il pensiero della vecchiaia. I nessi reciproci sono frequenti nella rete associativa. Per esempio, se siamo divertiti, tendiamo a sorridere e sorridere tende a farci sentire divertiti. Prendi una matita e stringila per qualche secondo tra i denti, tenendo la gomma a destra e la punta a sinistra. Poi stringi tra i denti l'estremità con la gomma, tenendo la punta dritta davanti a te. Probabilmente non ti sei reso conto che la prima di queste azioni ti ha costretto ad assumere un'espressione sorridente e la seconda ad assumere un'espressione accigliata. Ad alcuni studenti fu chiesto di giudicare la spiritosità delle vignette di The Far Side di Gary Larson mentre tenevano in bocca la matita. I soggetti sorridenti, senza alcuna consapevolezza di esserlo, trovarono le vignette più divertenti di quelli accigliati. In un altro esperimento i soggetti che, aggrottando la fronte, avevano il viso accigliato, denunciavano una maggiore reazione emotiva davanti a foto inquietanti, come quella di bambini quasi morti di fame, persone che litigavano vittime mutilate di incidenti. Anche gesti semplici e comuni influenzano inconsciamente i nostri pensieri e i sentimenti. In un esperimento i ricercatori dissero ai volontari di ascoltare messaggi con cuffie nuove fiammanti e di muovere ripetutamente la testa per controllare eventuali distorsioni del suono, spiegando che lo scopo era verificare la qualità delle apparecchiature audio. A metà soggetti fu detto di annuire, mentre gli altri fu ordinato di scuotere la testa come insegno di niego. Tutti udirono l'editoriale di un giornalista radiofonico. Quelli che annuivano tendevano ad accettare il messaggio mentre quelli che scuotevano la testa tendevano a rifiutarlo. Nemmeno questa volta c'era consapevolezza, solo la consueta connessione tra un atteggiamento di rifiuto o accettazione e la sua comune espressione fisica. Si capisce dunque perché il noto consiglio di agire con calma e gentilezza indipendentemente da quello che si prova sia ottimo. Seguendolo si avrà il piacere di sentirsi davvero calmi e gentili. Gli stimoli che ci guidano. Lo studio degli effetti priming ha condotto a scoperte capaci di minare l'immagine che abbiamo di noi stessi come artefici autonomi e consapevoli dei nostri giudizi e delle nostre scelte. Quasi tutti noi per esempio riteniamo che votare sia un atto intenzionale che rispecchi i nostri valori e i nostri giudizi sulle politiche e siamo convinti che il nostro voto non sia influenzato da dettagli rilevanti. Il nostro voto per esempio non dovrebbe essere influenzato dall'ubicazione del seggio elettorale eppure lo è. Uno studio condotto nel 2000 sul modello di voto nella circoscrizione elettorale dell'Arizona ha dimostrato che il sostegno alle proposte di aumento dei finanziamenti alle scuole era molto maggiore quando il seggio elettorale si trovava in una scuola. Un altro esperimento indipendente ha dimostrato che anche solo esporre i soggetti a immagini delle aule e degli armadietti della scuola incrementava la loro tendenza a sostenere un'iniziativa scolastica. L'effetto prodotto dalle immagini era maggiore di quello determinato dall'essere genitori di ragazzi di età scolare. Lo studio del priming ha fatto una certa strada rispetto alle prime sperimentazioni sul nesso tra pensiero della vecchiaia e il ritmo della camminata. Oggi sappiamo che gli effetti priming si insinuano in ogni aspetto della nostra vita. Gli stimoli che ricordano il denaro in particolare producono effetti inquietanti. Ai volontari dell'esperimento delle cinque parole fu mostrato l'elenco dei termini e detto di costruire una frase di quattro che avesse come tema il denaro alto uno stipendio cassa pagare diventò pagare un alto stipendio. Altri stimoli erano molto più sottili come un mucchio di soldi dei monopoli su un tavolo o un computer che aveva come salvaschermo un'immagine di banconote che galleggiavano nell'acqua. Le persone stimolate dal denaro diventano più indipendenti di quanto lo sarebbero senza lo stimolo associativo. I volontari perseveravano almeno il doppio del tempo nel tentativo di risolvere un problema molto difficile prima di chiedere aiuto allo sperimentatore una chiara dimostrazione di una cresciuta fiducia in se stessi. Le persone stimolate dal denaro sono anche più egoiste risultavano molto meno disposte a dedicare il loro tempo ad aiutare un altro studente che fingeva di essere confuso riguardo a un compito previsto dall'esperimento. Quando uno degli sperimentatori lasciò cadere maldestramente un mazzo di matite in terra i soggetti che avevano inconsciamente in mente il denaro raccolsero meno matite. In un altro esperimento della serie lo sperimentatore disse ai volontari che di lì a poco avrebbero incontrato qualcuno e avviato una conversazione per cercare di conoscerlo meglio e li invitò a preparare due sedie mentre andava a prendere il nuovo arrivato. I soggetti stimolati dal denaro scelsero di stare scostati dall'altra persona più dei soggetti non stimolati 118 centimetri contro 80. Anche gli studenti del corso di laurea di primo grado quando erano stimolati dal denaro mostravano di preferire ampiamente di stare per conto loro. Il tema generale di queste scoperte è che l'idea del denaro stimola l'individualismo ovvero la riluttanza a legare con gli altri dipendere dagli altri o accettarne le richieste. Kathleen Voss la psicologa che ha condotto questa straordinaria ricerca è stata lodevolmente compassata nel discutere le implicazioni delle sue scoperte e ha preferito lasciare il compito ai suoi lettori. Gli sperimenti che ha condotto vanno in profondità le sue scoperte fanno capire che vivere in una cultura che ci circonda di stimoli legati al denaro tende a forgiare il comportamento e l'atteggiamento in modi di cui non si è consapevoli e di cui forse non si dovrebbe nemmeno andare tanto orgogliosi. Alcune culture ricordano spesso alla gente il rispetto altre rammentano continuamente Dio altre ancora stimolano l'obbedienza con grandi immagini del loro adorato presidente. Si potrà mai dubitare del fatto che vedere ovunque i ritratti del leader nazionale come succede nelle società totalitarie non solo diffonda la sensazione di vivere sotto l'occhio del grande fratello ma produca anche una reale riduzione del pensiero spontaneo e dell'azione indipendente? L'evidenza degli studi sul priming lascia pensare che ricordare alle persone la loro natura mortale accresca il fascino di idee autoritarie le quali magari assumono contorni rassicuranti nel contesto del terrore della morte. Altri esperimenti hanno confermato le intuizioni freudiane a proposito del ruolo dei simboli e delle metafore nelle associazioni inconsce. Prendiamo per esempio le prime e ultime lettere di possibili parole W-H-E-S-P soggetti cui era stato recentemente chiesto di pensare a un'azione in cui si erano vergognati tendevano a completare con wash lavare e soap sapone piuttosto che con wish desiderare e soup zuppa. Inoltre basta l'idea di pugnalare alla schiena un collega di lavoro per rendere i soggetti più inclini a comprare saponette disinfettante o detergente invece che batterie succo di frutta o barretti di cioccolato. La sensazione che la propria anima sia macchiata dal peccato pare suscitare il desiderio di purificare il corpo un impulso che è stato denominato effetto Lady Macbeth. Il desiderio di purificazione riguarda in maniera molto specifica le parti del corpo coinvolte nell'azione peccaminosa. I volontari di un esperimento furono invitati a mentire a una persona immaginaria o per telefono o via mail. In un successivo test sulla desiderabilità di svariati prodotti tra cui colluttori e saponette i soggetti che avevano mentito al telefono mostravano di preferire i colluttori mentre quelli che avevano inviato l'email optavano per le saponette. Quando descrivo gli studi sul priming al pubblico la reazione è spesso di incredulità non c'è da stupirsi il sistema 2 è convinto di avere il controllo e di conoscere le ragioni delle proprie scelte. Inoltre con tutta probabilità insorgono nel pubblico certe domande com'è possibile che manipolazioni così infinitesime nel contesto abbiano effetti tanto grandi? Questi esperimenti dimostrano che siamo completamente alla mercè di qualunque stimolo l'ambiente fornisca in un dato momento? No naturalmente gli effetti degli stimoli sono notevoli ma non è detto che siano grandi tra 100 elettori solo alcuni tra quelli privi di una radicata convinzione voterebbero in maniera diversa secondo che il seggio elettorale si trovi in una scuola piuttosto che in una chiesa ma come sappiamo anche una percentuale esigua è in grado di capovolgere il risultato di una votazione l'idea su cui ci si dovrebbe concentrare invece è che l'incredulità non è un'opzione i risultati non sono contraffatti né sono meri casi statistici non si ha altra scelta che accettare il fatto che le principali conclusioni di tali studi siano vere particolare e più importante bisogna accettare che siano vere riguardo a noi se fossi stato esposto a un salvaschermo di banconote galleggianti anche tu con tutta probabilità avresti raccolto meno matite da terra nel caso in cui lo sperimentatore le avesse maldestramente lasciate cadere non credi che tali risultati possano riguardarti perché non corrispondono a nessuna delle tue esperienze soggettive ma la tua esperienza soggettiva consiste in gran parte nella storia che il tuo sistema 2 racconta se stesso riguardo a quanto accade i fenomeni di priming insorgono nel sistema 1 e non hai un accesso conscio a essi concludo con una perfetta dimostrazione dell'effetto priming condotta nella cucina di un ufficio di un'università britannica per molti anni i dipendenti di quell'ufficio avevano pagato il tè o il caffè che prendevano durante il giorno mettendo soldi in una scatola dell'onestà in ufficio era affisso l'elenco dei prezzi raccomandati un giorno senza alcun preavviso o spiegazione sopra quell'elenco fu attaccato un tabellone al quale venne affissa ogni settimana per 10 settimane un'immagine diversa nello specifico vennero sostituite alternativamente rappresentazioni di fiori e immagini di occhi che parevano scrutare direttamente l'osservatore nessuno commentò il nuovo elemento di arredo ma i contributi alla scatola dell'onestà cambiarono significativamente i poster e la somma che gli impiegati mettevano nella scatola dei soldi relativamente alla quantità che consumavano sono mostrate nella figura 4.1 e meritano un'attenta analisi la prima settimana dell'esperimento come si vede alla base del diagramma due occhi spalancati fissavano i bevitori di tè o caffè il cui contributo medio era 70 pens per litro di latte la seconda settimana quando veniva installato il poster dei fiori i contributi medi scendevano a 15 pens il trend continuava in media gli utenti della cucina versarono nelle settimane degli occhi quasi il triplo dei soldi che diedero nelle settimane dei fiori sembrava che bastasse suggerire loro simbolicamente che erano osservati perché migliorassero il comportamento come si può immaginare l'effetto si verificava senza che nessuno ne fosse consapevole ci credi adesso che anche tu rientreresti nello stesso modello di comportamento qualche anno fa lo psicologo timothy wilson scrisse un libro dal titolo affascinante stranger to ourselves straniere a noi stessi ora sei stato introdotto allo straniero che è in te e che magari ha il controllo di gran parte di quello che fai anche se raramente lo sospetti il sistema 1 fornisce le impressioni che spesso si trasformano nelle nostre convinzioni ed è la fonte degli impulsi che spesso diventano le nostre scelte le nostre azioni esso dà una tacita interpretazione di quello che accade a noi e nella realtà intorno a noi collegando il presente con il passato recente e con le aspettative riguardanti il futuro prossimo contiene un modello del mondo che classifica all'istante gli eventi come normali o sorprendenti è la fonte di giudizi intuitivi rapidi e spesso precisi e per lo più fa tutto questo senza che abbiamo consapevolezza delle sue attività come vedremo nei capitoli seguenti il sistema 1 è anche l'origine di molti degli errori sistematici delle nostre intuizioni a proposito di priming la vista di tutte quelle persone in uniforme non stimola la creatività il mondo ha molto meno senso di quanto crediamo la coerenza deriva soprattutto dal modo in cui funziona la mente furono stimolati a cercare i difetti e difetti trovarono il suo sistema 1 ha costruito una storia e il suo sistema 2 ci ha creduto è quello che succede a tutti noi mi sono imposto di sorridere e in effetti mi sento meglio